E' aperto ormai da anni il dibattito sulla sicurezza dei cellulari per la salute. Una questione che necessita di ulteriori studi di approfondimento vista l'enorme diffusione dei telefonini nella popolazione mondiale. Solo in Italia si stima che ce ne siano quasi due a testa per un totale di circa 100 milioni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già ammesso che potrebbero esserci dei rischi legati all'uso del cellulare. Rischi che valgono per gli adulti come anche per i bambini che sempre di più utilizzano il telefonino in maniera indiscriminata. Quello che appunto noi notiamo, questo uso indiscriminato di cellulari da parte appunto dei bambini, devono avere l'accortezza ai genitori di non darlo durante le ore scolastiche perché la scuola è importante come palestra di vita, di socializzazione, perché appunto si socializza ma soprattutto si insegna ad essere un adulto serio e consapevole.